allora ragazzi voglio soltanto dire una piccola cosa questo video è venuto così con la webcam l'ho fatto perchè mi sembrava molto migliore e scusate se la webcam è un po' sballata col video però cercherò di metterla al posto il più possibile poi lo so che vedrete dei progressi che voi non avete visto tipo io che ho una corazza di ferro e così così e perchè mi si è corrotto il file del secondo episodio quindi questo sarà il secondo episodio anche se in realtà doveva essere il terzo episodio fa niente vi lascio al video e ciao bella a tutti ragazzi qui è Bazzu che vi parla e siamo in un nuovo gameplay su minecraft come ospiti oggi ci sono qua il feo e il vittorio che è di qua a schermo assoluto non lo vedrà nessuno non ha gli occhiali però ovviamente è un figo della madonna perché ha gli occhi azzurri di sicuro di sicuro ma sono schifosi avere gli occhi azzurri punto zitti 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 allora noi nell'episodio precedente se l'avete visto se l'avete visto siamo andati qua è spaventato è spaventato è spaventato è spaventato è spaventato è spaventato no allora questo blocco di terra è glicciato sono despaventati sono despaventati sono morti metti un blocco di terra perché dai che ce la fai bravo è sopra qua lo spawner me lo sento no e difatti non erano difatti però c'era un'altra cesta scusate ma lo spawner non era davanti a noi no era sopra la cesta cosa? si ma indistruttibile poi indistruttibile hai letto? c'è a noi questi gambali cosa ce ne facciamo? ah no aspettate però prendiamo questi rimettiamo qua questi poi facciamo così no ma butto tanto sono indistruttibili cosa buttiamo? no tanto sono indistruttibili non ci si spaccano mai mettiamo questi 13 di terracotta perché li prendi? eh ma sono indistruttibili di caratteristica indistruttibili eh allora si sono indistruttibili allora cosa li dobbiamo fare? eh no allora tieni terracotta che è comoda terracotta che è freddo tu mi dicevi che sopra la cesta c'è lo spawner mi sembra eh vedi oh vedete che avevo ragione avevo avevo e anche io avevo you was ok ora possiamo salire perché intanto non ci dovrebbe ce ne sono altri molti altri molti noi 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 rasciamo noi rasciamo no protexio 10 è qualcosa di non ci fa l'erchieranno quasi eh ho capito ma sono in 8000 8000 mi piace no 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 ah già dovete mettere 8000 mi piace perché sono 8000 no Vittorio provone sfide 8000 mi piace ci arriveremo dopo 65 anni no, 8000 mi piace perché è morto lo guardano in 16 persone no, ma perché ci sono quelli che russano no, perché ci sono quelli che russano no, non è vero, 16 perché? 16 16 16 adesso guarda è una fuzzata che cosa fai? no, mi ha installato non c'ho più Whatsapp non c'ho più Whatsapp che merda poi un telefono stralla moda no, la cover l'ho fatta io stupendo tu cos'hai? salta 4 blocchi mazucchi, l'unico saltatore di 4 blocchi ah, tu, no, no, scendi scendi, scendi, scendi non si sale sul palco puoi usare anche una spada di diamante se ce l'hai perché non prende internet? vai, morite tutti adesso ti è rimasto uno basta, Rosario non li sopporto più alla Woodbar non puoi ucciderli che cazzo fai? che cazzo fai? tu come sei salito? è spawnata direttamente lui, lui è qua, ding, ding, ding perché cosa rende uno spawner? dove? vai indietro lo so, lo so che qua c'è lo spawner allora, lo scemo no, è perché c'erano questi qua che salivano adesso non possono più spawnare fuori a studi sociali cos'è? che cazzo fai? oh! non prende internet che è che mi ha fatto danno? le prese sono tredici tu muori, tu muori tu muori capito? lo so, ce ne sono questa non l'ho esplorata ad esempio ah, si l'hanno passata uh, sette sette di oro quasi me la adoro oh! cosa? oh! oh! quasi a nove a nove a otto a nove facciamo a nove facciamo blocchi d'oro la tipa lampeggia cioè, lui stava intendendo che la webcam lampeggiava ma sapete è un ago pro quindi lampeggia quando inizia non ti fanno nomi è un ago pro è un ago è un ago 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 ok è un ago ok adesso possiamo tornare in su clash of clans io amo quel gioco eh niente amo risaliamo con un ascensore d'acqua e io amo suonare ecco la mia acqua era diventata secchio d'acqua non secchiello secchio ragazzi oggi ma ce l'hai l'acqua oggi? si è ricomparsa oggi? lo so oggi? mentre che stavamo aia facendo il video ho detto secchiello d'acqua si è preso malissimo ho detto è secchio d'acqua lo secchiello ignorante non volevi correggermi invece avevo fatto giusto che intelligento ho fatto giusto te uuuu ragni 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 uuuu a me ha piacere i ragni no i ragni qua non suonano che voce uuuu ci stiamo avvicinando uuuu sbama che va ma qui è questo rumore ragni si sta rompendo la palla di ferro mi ha amertetto ahhh diamine tu muori dio gesù santo tu muori no 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 tu muori non hai capito niente dalla vita metti tipo una fai un blocco lì e metti sopra una una rete fate così poi una volta fatto questo fate i buoni o se no metti sopra una slab così non possono entrare e puoi colpirli cosa sta insinuando eh ma tu adesso fai così prendi la mela non puoi farlo prendi questo te ne servono che cazzo stai facendo ma la smettono adesso prima russano adesso non so cosa fanno nooo te l'ho detto ti serve ancora un pezzo di ovo la mela wow cosa stai dicendo cosa stai insinuando me lo aspettavo che il peo lo dicesse cheat no ma ci sono anche i ragni velenosi no ma si dice cheat no 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 i ragni velenosi eh ma l'acqua li metti sopra un po' d'acqua li spacca le ragni tu cos'hai nooo no tu cattivo tipo l'obbisciotti l'obbisciotti ma poi ah ce n'è uno lì ah no ah ce n'è ah il ragno velenoso ragno velenoso ragno velenoso ti diciau stato bello stato bello conoscervi ah tu muori tu muori tu muori tu muori tu muori perché il veleno non ti manda sotto il cuore perché il veleno non ti manda sotto il mezzo cuore cioè sotto eh ma se hai non ti manda sotto il mezzo cuore eh no non so sei moruto però per dirvi perché è così difficile perché abbiamo messo in hard loccato cioè non si può cambiare cioè noi siamo molto intelligenti c'era la peaceful noi intelligenti cioè c'era la peaceful abbiamo cannato qualcosa ha suonato finita la webcam batteria scarica ah no aspettate 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 e durava tre ore e sette no 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 era soltanto per la durata del video cioè abbiamo ancora tre ore e venti però no con con la batteria lampeggiante quanto è che fa niente noi andiamo avanti noi andiamo avanti ha suonato la tipa la tipa la webcam fa niente ha suonato ragazzi non ce la faremo mai a mettere tutta la webcam eh sei rispenta tutta la webcam non ce la faremo mai lo so eh se schiacci qua se riacci no perché scarica io te lo riacci forse del male adesso si rispegne muori ma basta ma devono fare anche sti effetti speciali qua di effetti speciali qual è? effetti speciali sti buonanotte raga faccio un effetti sonori anche te faccio un kamikaze dai ci sta kamikaze butto giù metto tutte le torce eeeh mi hai avvelenato cosa sei? che cazzo ti urli? siamo qui non siamo soli aaaaaa metti tutto metti tutto metti tutto aaaaa vado oh tu cos'hai tu cos'hai tu cos'hai no no uno spazio di giocca no 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 ma prima c'è che c'è lì dove ne trega? io ce la faccio io ce la faccio io ce la faccio ma va 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 non spona più niente non spona più niente cosa vuol dire? significa che non nascono più ragni schifosi velenosi aaaaa tu mori tu morice morice tomorrow no non è tomorrow io dico tomorrow è tu morice si è il morice tu mori tu mori no non ce ne sono altri non ce ne possono essere altri sono tutti morti adesso scopri che non stai registrando ancora l'altra volta no 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 ooooh ma vedete che ci hanno tutti un naso ah ma si sta già distruggendo sta roba sembra un naso è già distrutto qua di ferro ma la smettete? si ma prende anche il ferro quindi io c'è non ti serve un cazzo uno due tre prendi sta roba scopri che era un altro diamante che pizza uh night vision night vision 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 visionario non so l'inglese scusate ma c'è scritto visione notturna era così difficile ma io io sono alcam eh non è che ma vaffanculo ah ah scusate vabbè però tutti questi linguaggi lei perde solo tre di ceschi dove cacchio era? di ceschi ma cosa me ne faccio di un piccone d'oro? uh guarda qua ma ma indistruttibilità wow però più due di dare c'è scritto indistruttibile non indistruttibilità però va stra veloce va molto più veloce da ferro mi sembra Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut rispondono così tanto velocemente tanto ci abbiamo di sopra la farm di scheletri andiamo su ah perchè l'altra volta repubblica italiana no si l'abbiamo già detto nel gameplay 2 minchia si fa veloce però brum brum ah eccolo dove era l'ultimo rango che stronzo no non ucciderlo dai poverino fate un arco prendi le strighe al posto di di questi pastori string poi puoi fare anche la canna da pesca stringhe vittorio non le stringhe con le scarpe però ma stavo scherzando oddio non si fa neanche per me era lo scherzo più brutto le scale con la mega battutona del vittorio chiudiamo ciao e alla prossima mi fa male la corona 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 mi fa male la corona